Delle cinque aziende che ti presento oggi, la prima ha dato un caldo del 245%, la seconda del 104%, la terza del 31,5% e la quarta del 19,5%. E se ti dicessi che queste aziende sono a dare questi rendimenti medi con un arco temporale di 30 anni? E se aggiungessi che sono tutte dello stesso settore, non tecnologico, ma che sono invece degli speciali diritti e che quindi ti sommergono di dividendi sostenibili nel tempo? Andiamo subito ad approfondire perché oggi di carne al fuoco ce ne abbiamo tanta e io comincio ad avere fame. Benvenuti o bentornati, io come sempre sono Pasquale. Col termine di Speciality RIT indichiamo tutti quei trust immobiliari specializzati a possedere immobili in un settore ben specifico. Ci sono quelli che hanno solo torri di comunicazione per i telefonini, ad esempio quelli dei casino, quelli dei campi coltivati o quelli degli archivi, ma la lista non finisce qui. In questo caso il settore preso in esame è sempre Speciality ma ulteriormente è considerato a parte. Infatti i RIT in questione vengono definiti Self Storage, per cui più o meno autoimmagazzinamento. Insomma, non è che sia proprio così però, ci proviamo. Insomma, posti dove la gente ci ripone i propri oggetti, mobili o qualsiasi cosa si voglia, pagando uno spazio più o meno grande. Ma da dove nascono queste straordinarie performance e sono effettivamente lì per continuare nel tempo? Andiamo a capire il mercato in generale, quello di riferimento, dei Self Storage, nella prima parte del video e poi successivamente parliamo comparandole delle 5 aziende quotate al momento sul mercato americano in questo settore specifico. Ok? Dal momento in cui ha avuto origine il concetto di Self Storage, l'industria è cresciuta in modo esponenziale, offrendo molto di più rispetto alle sue soluzioni di base originali. Oggi il mercato comprende circa 50.000 strutture principali che contengono poco più di 2 miliardi di piedi quadrati negli Stati Uniti d'America, paese principale di questo business e appunto quello che andiamo ad approfondire oggi. 4 dei 5 proprietari più grandi sono Public Storage col ticker PSA, Extra Space Storage col ticker EXR, CubeSmart col ticker Cube e National Storage Affiliates Trust col ticker NSA. Il quinto è il più piccolino, veramente piccolino, è Global Self Storage col ticker Self. Ne esisteva un altro che ho trattato in passato sul canale chiamato Life Storage che però ha fatto un merge alla pari con EXR per cui non esiste più. Certo ho parlato nell'introduzione di rendimenti fantastici ma ovviamente a seguito dell'incremento dei tassi di interesse la crescita degli affitti nel primo trimestre del 2023 è rallentata anche se più recentemente i tassi di affitto e le occupazioni sono aumentati leggermente. Questo anche grazie alla riduzione dei costi operativi dovuti all'utilizzo di soluzioni diciamo così un po' più smart, un po' più moderne. Ad esempio l'uso di tecnologie come il monitoraggio a distanza delle proprietà, le sedature biometriche, bluetooth e la tecnologia di automazione self service. Oltre al ridurre dei costi si è avuto anche un miglioramento complessivo dei servizi che vengono offerti. Anche aziende come queste con un business relativamente semplice da capire e da creare cercano poi di espandersi e di migliorare creando delle micronicchie di mercato in cui operare con specializzazione estrema. Esempi sono quello dello stoccaggio del vino, i veicoli storici e lo stoccaggio delle RV o delle barche. Questo perché le proprietà dotate di servizi moderni come il controllo del clima e i sistemi di sicurezza avanzati continueranno ad attirare i consumatori e ad aumentare il valore degli asset. I dati per la fine del 2023 sono previsti essere questi per il settore del safe storage. Il tasso di occupazione degli immobili fra il 90 e il 94.5%. Incremento del fatturato per ogni singolo negozio fra il 2.1 e il 4.3%. E incremento del net operating income per ogni singolo negozio fra l'1 e il 4.5%. Ora che abbiamo snocciolato i punti cardini di questo settore andiamo a vedere queste 5 aziende in sintesi e poi lancerò un sondaggio per capire quale possiate essere interessati, se lo foste, da approfondire ulteriormente. Partiamo dalla più grande per poi passare alla piccolina e poi facciamo una comparazione di dati su Seeking Alpha che non sponsorizza questo video ma sono il cui io, ok? Cioè Seeking Alpha, se volete darmi un link affiliato con una sottoscrizione a vita per me e per i miei ready gratuita, beh, io ci sono. Ticker PSA Public Storage, la più grande dell'otto, quella che fino ad ora ha dato un carri del 245% inclusi divinendi, quindi un total return. Il suo divinendo attuale è del 4.4%, una macchina macina soldi del settore. PSA ha rivisto le sue previsioni per il 2023 portandolo a un volume di transazioni previsto di 2.6 miliardi di dollari per ogni anno. Queste previsioni includono l'acquisizione di Simpli Self Storage completata nel luglio del 2023 per 2.2 miliardi di dollari. Ticker EXR, Extra Space Storage, che si è principalmente concentrata in questo anno sull'integrazione della fusione col merge di Life Storage. Azienda che ha dato un carri del 104% e ha un dividendo di poco al di sopra del 2%. EXR ha acquisito un negozio operativo e due strutture di sviluppo del trimestre, un totale di 32.8 miliardi di dollari. A causa della sua focalizzazione sulla fusione con LSI, EXR ha ridotto le previsioni di acquisizione da 250 milioni a 200 milioni di dollari per l'anno 2023, che comunque non sono bruschette. Cube Smart, col ticker Cube, ha mantenuto le previsioni di acquisizione per il 2023 nell'intervallo fra i 100 e i 200 milioni di dollari. Azienda che ha dato un CAGR del 19,5%, sempre total return, e che fornisce un dividendo del 4,5%. Cube ha sottolineato che continuerà ad acquistare solo valutando le opportunità che soddisfano criteri di investimento specifici e che abbiano senso rispetto al costo del capitale. Con gli aggiustamenti dei mercati si spera di trovare, appena quello che dicono loro, più opportunità del 2023 rispetto a quelle che si sono trovate nel 2022. Passiamo a National Storage Affiliates, col ticker NSA. Azienda che ha fornito un CAGR del 31,5%, grazie anche al suo dividendo del 2,1%. Azienda che ha indicato che le acquisizioni rimangono impegnative a caso del vasto divario fra la domanda e l'offerta e dei costi elevati del capitale. NSA ha acquisito due strutture per 14 milioni di dollari che verranno gestite come estensioni delle località già esistenti, ma che ha ridotto le previsioni di attività di acquisizione per il 2023 nell'intervallo fra i 200 e i 300 milioni di dollari. E anche qui non sono bruschette all'aio. Chiudiamo con Global Safe Storage, col ticker Self. La bimba del settore con un CAGR del 9,2% e un dividendo più alto 6,11%. Azienda che al momento possiede solo 13 proprietà e che ha una capitalizzazione di soli 53 milioni di dollari. Azienda per la quale un approfondimento nel caso ci si voglia investire va fatto in modo particolarmente certosino. Troppo baby. Ma andiamo a compararle tutte. E cominciamo a parlare prima di tutto dei ritorni sul lungo termine, quelli di cui parlavamo proprio all'inizio del video. Come possiamo vedere l'arco temporale dalla singola quotazione fino ad oggi è diverso, per cui i rendimenti sono stati divisi appunto per gli anni per la quale l'azienda è presente sul mercato. E come possiamo vedere Public Storage ha un 7.220%, XR ha un 1.932%, Cube un 358%, NSA un 248 quasi per cento e Self un 225% circa, considerando che è la più antica e PSA e poi le altre via via vanno a creare il loro rendimento sul mercato. Questo ovviamente non è sintomo che i rendimenti che ci sono stati saranno anche rispecchiati nel futuro, però è interessante capire come queste aziende sono andate a muovere con il loro prezzo e quindi con la loro market cap nell'arco degli anni e del tempo. Per quanto riguarda il net income, come possiamo vedere da questo grafico, quella che ha sempre reso di più è stata proprio PSA, che tra l'altro, non so se l'ho detto ma lo dico adesso e che ve lo segnate, è quella più sopravvalutata a fare tante, proprio perché appunto è quella che ha dato, ha fornito dei rendimenti maggiori. Se andiamo a vedere nell'ultimo anno, questo rendimento comunque continua ad essere maggiore, ovviamente perché l'azienda è capitalizzata molto di più, ha una market cap molto più ampia. Andiamo a vedere il market cap giusto per curiosità. Come possiamo vedere appunto PSA è quella che è la marchetta maggiore, quasi 48 miliardi di dollari, iXR tra la fusione di LSI e appunto iXR adesso capitalizza quasi 26 miliardi di dollari, poi abbiamo la più piccolina Self, 52 milioni e mezzo di dollari, Cube 8 milioni e 6, quasi 7, ed NSA 4 miliardi di dollari. Quindi possiamo vedere come le aziende anche in termini di dimensioni variano notevolmente. Ovviamente come dicevo all'inizio la Self che è la più nuova, la bimba, la baby di questo quintetto è quella che potrebbe dare molti più rendimenti, la multi bugger ma potrebbe anche essere quella che finisce con le zampellare, per cui valutare aziende di questo tipo richiede anche fare degli step aggiuntivi nella valutazione, non che le altre non bisogna analizzarli in maniera approfondita, ma questa bisogna comunque dedicargli un occhio maggiore. In termini di debiti totali quella che è più indebitata in questo momento è proprio iXR, molto probabilmente perché c'è stato il merge con LSI, in questo momento ha un debito di 7 miliardi e 7, mentre PSA, la nostra big, la nostra mega cap del Self Storage, ha quasi 6 miliardi e 9 di debito. Le altre sono 3 miliardi per Cube, 3 miliardi quasi 7 per NSA, e Self ha 17 milioni di dollari di debito, che per un'azienda piccola come Self, come dicevo prima, essendo capitalizzata pochi milioni in più del suo debito, va molto molto approfondita se si vuole effettivamente andare ad investirci. Però a fronte di tutti quei debiti ci sono anche degli asset che sono posseduti e come possiamo vedere PSA è quella che possiede più asset, 17 miliardi e 6, conto di 12 miliardi quasi 4 di XR, Cube 6 miliardi e 3 e NSA 6 miliardi e 2. Come possiamo vedere NSA e Cube viaggiano su binari paralleli quasi per tutte le metriche, Self 67 milioni quasi e mezzo di asset, a fronte diciamo prima di 15-17 milioni di dollari di debito, per cui ampiamente coperti i debiti dagli asset totali posseduti da parte dell'azienda. Una breve finestra anche sul dividendo, anche perché chi investe in dividendi come me ha interesse che il dividendo sia crescente, che l'azienda faccia capital gain e che comunque il dividendo sia bello sostanzioso. Questo ovviamente è l'ultimo punto da valutare in un ambito di un investimento in un'azienda da dividendo. E come possiamo vedere PSA 10 dollari per ogni azione di dividendo, XR 6 dollari e 24, Self 0,29 centesimi di dollari, Cube 1,90 dollari e NSA 2 dollari e 21. Dividendo come possiamo vedere per tutte le aziende sempre crescente, a parte per Self che ovviamente essendo nuova ha un storico molto più piccolo. In particolare possiamo vedere l'impennata dal 2022 di PSA che ha aumentato il dividendo, quando l'ho avuto dal 2017 fino al 2022 praticamente piatto a 8 dollari. Andiamo anche a considerare il profitto lordo di queste aziende, PSA 3,3 miliardi circa di profitto lordo, EXR 1,6 miliardi circa, miliardi di dollari, Self 7,9 milioni, Cube 770 milioni di dollari, mentre NSA 632 milioni di dollari di profitto lordo. Per quanto riguarda invece il Fiklash Flow, all'Eva abbiamo PSA con 2,3 miliardi, EXR con 649 milioni di dollari, Self 3,5 milioni, Cube 501, quasi 502 milioni di dollari, NSA 320 milioni di dollari, mentre per quello senza leva 2,4 miliardi per PSA, 823 milioni, quasi 824 milioni per EXR, 3,8 milioni per Self, Cube 559 milioni di dollari, e NSA 402, quasi 403 milioni di dollari. Un ultimo spunto volevo darlo per il ritorno sui asset per i 12 mesi trailing, per cui 12 trailing months, per le aziende, per vedere effettivamente queste aziende come fanno a rendere i propri asset, quelli che sono di proprietà, appunto gli immobili. E anche in questo caso PSA è quella che ovviamente ha dato dei rendimenti maggiori, è uno dei motivi per il quale sta lì in alto è proprio questo, un 24,5% per PSA, EXR 6,66%, Self 4,37%, Cube 6,21% ed NSA 1,82%, per cui a parte PSA, tutto il resto è come direbbe Califano in noia, e noi possiamo dire che è un oblio nei loro confronti. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi dei Sales Storage Reads e delle 5 aziende leader che ti ho presentato. Ti ricordo che se vuoi avere in anteprima le aziende che aggiungo alla mia watchlist, puoi sempre iscriverti al mio Patreon, al costo di una colazione al mese, dove cosa puoi fare? Beh, dove possiamo anche approfondire in privato le aziende di cui vado a menzionare nei miei video e dove potrai trovare tutti i file che vado a proporre o presento durante i miei video. A breve arriveranno anche tantissime novità perché andrò a pubblicare anche analisi approfondite che pubblicherò in PDF per i miei iscritti. Ricordandoci che questi non sono né consigli a investire o a non investire, ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento, in ogni caso, se questo contenuto ha apportato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto, potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea cominciare a far parte di questa famiglia, di questa grande community, con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche. Bene, io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. A presto!